Dovrebbe essere, come ha detto l'ultima signora, un posto di transizione per permettere alla gente poi di ricostruirsi una vita, cioè noi dobbiamo dare il supporto alle persone che hanno avuto magari un momento di difficoltà per avere quella speranza nel futuro, quella che manca a molti giovani che magari abbandonano l'Italia, perché non gli diamo una prospettiva di sperare di, come succedeva magari nelle vecchie generazioni, di nascere magari in una situazione disagiata, però diventare il grande imprenditore, il grande manager potere, avere il futuro che uno sogna, e per questo ci vogliono tanti investimenti, Mirta è fatti bene, perché spesso i soldi arrivano, poi vanno a finire i mille rivoli e non dove dovrebbero andare.